A presto! Non c'è un uomo! Sì, io ho avuto un battito vecchio, tu non sai, un ucciso, non c'è. Che vuoi fare? Ma non pensi che uno arriva a fare una malazza una ansella? Non pensi? Si faccia un po' la scena non pensi? Non pensi... Non pensi? Non pensi? Complati! Non pensi? non c'è pure che mi ha pensato ma non è proprio e l'ho da te? si e ci sappiamo ehi vedi Domasce ehi vedi Domasce no non sei da te ehi vedi Domasce dite ma dite Domasce ma ti sentite e Domasce dite a me da sei a te non ti sembra te ma tu ma sei da te ma si lui va a me dove tu vuoi? ehi vedi C'è quella di tutti, che mi chiava! Ehi, grazie del… Ma puoi servire, ti matare! Di te la fine? La fine, ma quella di me! La so fati che! Che la so fati che! Ma... 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 Sì, non c'è! Sembra la grazia, sanna nel colese! Sanna nel colese, sembra la grazia! Ma c'è di appiccio qui si è a fare il settore, tu hai? si andano, si andano e come è tutta lì, 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 lì ci soffa e la mia famiglia, ci soffa io però non so che mai vado a sacchiare, ma dì tu fa io stai venendo a barbecco, un magazzino di Danellus, la sordottone, che chiamo spurti stai vado a vedere, le roba dà, dentro la vetra con la mia famiglia, mi dà le roba ora sono sentite qui, mi sono sentite qui, mi sono sentite qui, me la carozetta c'è da affrontare, mi mi fermavo, le macchine, le cose, ce n'hanno da aiutavano, non dà aiutavano zio parola, c'è un po' c'è un po' quando l'hanno chiamo poi pensava capire, nemmeno, fanno domandate, ma tu si scusa, come sariate giù Ma non hanno detto che non darò la cristiana, non ha chiamato me, non faccio tutti i domani. Poi, te ne ho accorso, non lo moco, sì. Ti ha? Dove che chiede scusci se ho pensato, ha avuto da una droga per sapere che ti ha piaciuto. Sì, come va? Tu hai saluto per te pensare che ti credessi? Tu hai saluto? C'è il masco Regina. Regina l'abbastanza. Ma è avastanza però, è avastanza, non so consumiamo, è avastanza. Ma non lasci fidare. Non ci sa, io non la dubbio di chi, io non mi capisco, io non la dubbio di chi vuole che si fa la morte, vuole che si fa. Si andava a credere, si andava a credere, aiutami a te, aiutami a te, aiutami a te, aiutami a te, aiutami a te. Come si andava a parlare? Come si andava a rire? Come si andava a scuola? come come andai? e lo, e lo, e lo, ah io mamma, sei come vado? come si andai? si andai ormai puoi fare un bocchetto di latte con il biscotto di scioletà? ci vuoi? no, eh, no ora, ora, ti mangiati? che c***o tu, non sai che tu sei la chiamola ma da qui? ma da qui? allora hai c***o, s***o oh se potente però larosna si está correctly ma di tu due chi 사람 crede ? sii, ah non, non sai ma no, 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 no ai, me, ma cheские, mamma-messo che sh ma, mo ilspace di bambine neanche a criatょ ma ああ ci ma sono due ? ma non mi provoca non c***o. ma non ti proteggo ti che ti vuoi fare? non vuoi più che ti vuoi fare ma sei tu, sei tu, sei tu ma ma potete fare sapere non ce lo faccio perché sei due ma dove sei? non ce lo faccio, non ce lo faccio e non voglio vedere non ce lo faccio non ce lo faccio non ce lo faccio non ce lo faccio vuoi dire non ce lo faccio non ce lo faccio non ce l'ho ne ho in occhio ma anche se ci sto stiamo guarda 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 ma io non ce l'ho ah i c'è la città non è lato la colpa lo zii state dottore da scia che so adogliere da ciascuno io mi sei d'incontro io cado malato infacilmente io proprio me ne vado in depressione non esco più nella depressione lo zio io penso che ho condiviso con che nel sud di depressione io voglio andare a bambini non mi sei orta in me non 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 è che ci che vace io sono male io sono male tuoi e tuoi e tuoi cuspare io c'è io tuoi oh c'è il puo tuoi vado là io vado me sape ma città tuoi vado mi raccoglie io lo comprovi io so è tutta la mia città le cristiani si tu le preghi non eh eh le cristiani le cristiani ma come c'è il scegliere non è nascita ma troppo c'è la mia città il nostro dron che è? ma chiamata è ceg ma chiamata ma è un bel leggo ci sta accadendo ci sta avendo ci sta avendo ci sta avendo ci sta avendo atten 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 la cristiana è andata che è andato questo è il drogato cosa è che ci sta avendo cosa ci raccoglie e chi ci raccoglie c'è chi? che ci raccoglie qui ci raccoglie non ci raccoglie ma a stati ma non ne raccoglie è ma ma siamo noi io sono io che io non lo so io sono io che ti facciamo non te ne esiste non lo faccio da dirmi facciamo bene non lo so come te adesso te lo puoi spiegare faccio, non lo so mi sono 이쁜 non ti la lascio a un po' di telefoni Michele Michele, questo è buono, l'anno non sta bene Papa mi è assoluto, però ho cercato da gi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ma si è che si è che la bambina è la macchina e dico che è un biberon deve essere un biberon e dico che è un biberon e dico che è un biberon ma io la faccio in la nostra ma io la faccio in la nostra ma io la faccio in la nostra e dico che è un biberon ma se non ho mai reso facciamo cicelli di carbonato 2 e poi un'idea di losage si è già chiesto, la pizza, la mamma beh cambia Ehi, come giro! Come, come, come! Come! E tu sei stato calmo, lo sei. Come! Non lo sei! Come sei, come? Come sei, come? Come sei, come? Ehi, amma il tuo caffè! Amma! NANDA! Ehi, non c'è cosa! Ho posto da vedere la tuta giornata, ma lì tu devi andare tutto nel bus! Mado, la venda, mado, non c'è oggi c'è, siamo qui! Mado, mado, l'ecran, bostrom, come stanno la tua via! ρο Alto Nassauu Ragazzi, mi piace? Vai da vedere, commissario! Mi passa! Ma... Fammi domani, domani! Commissario, il signor Fradoso è qui! Ho capito! Un attimo! Tu sei già l'ascoltato uno, un attimo! Prendiamo le mamme lascia le mamme! Sì, l'amma esichiette! e doni ma mangla, mi senti da fuori a te doni ma è si caldo, mi vuoi sto caldo si è lui che mi ti si fai un ragazzo al castello ma buonasera oi ciao Puppe, ciao ciao Anno no no, cosa faccio che te le Puppe, ti abbrai tutto qua per la vecchia cosa succesi Puppe? cos'è? usa un accordo, usa tutta la banda usa, sono due, sono due ti abbrai tutto, ora lo sanno ma come è? faccio un sticco tu vuoi essere malvato faccio un agitante ti abbrai tutto io faccio un agitante io faccio un agitante io ti abbrai tutto non ti sono mai avuto ci sono due o due o due scusi, guardate, ti dico una parola a signor ti abbrai tutto io ti abbrai tutto io ti abbrai tutto chiamiamo un domen Niente qualcosa Niente questo ma non so ma che la chiede non so non so ma non ci sono non so ma non ti piace mi ti senti ehi oh giovane io non mi fai bello bello che posso fare famiglia ti sento e che vieni dorsi eh ti senti ti senti sai perchè mi ha detto che hai scusa perchè sei che sono in tua casa che io non mi raccomando ma faccio una buona ultima ma trova una bella e tu sei che io per te sai che scusa affinché non ti ho detto ma stai facciando per entrare io non sto cassa di me scusami ma se ti muovo, se ti muovo questa piccina non concludo no no non concludo no no, sai che sei la seconda volta che mi ha scolato non c'è niente vabbè, sai no e la amica da te non ti ammi vabbè scusi, e poi c'è l'altro che stiamo spettando ah no, sono che stiamo spettando io non mi posso molto per te tu non vuoi no, di me non si ricordi ma vedete che dici ma parli di non fare nè E' va bene, lascio, ma sono comissario Poi il racconto, scopro giù, certo, nè ora nè ma Nè, va bene, nè E' sembra la polizia così Ma, la facciamo sempre, non lo faccio Ma, non ti lasciassi da, ancora ti stangare? No, no, ma... E' no, non ti senti molto, ma come stai a prendere? Non stai a prendere, non stai a prendere 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 Ma come stai a prendere? Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Ancora adesso, ancora adesso Ancora ora che mi va chiedere Poi c'è da prendere il telefono E poi, qui è morto? Non c'è, non c'è Tu sai che per le figlie è morto Tu sai che mi dorme Tu non le ti, non c'è così niente Qui per le figlie facessi La cosa più morta di questo momento E' un sac, ma ne è già Allora, tu puoi fare qualche cosa Si capace, si mace quegli uomini abbastanza Io sono mace Fai da, se fai qualche cosa Io sono disposto a tutto A tutto ciò A tutto ciò A tutto ciò E ci risposto pure A tutto ciò 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 Ma cosa stai dicendo? Il problema è questo Ma no Vieni 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 Già mi sto chiedendo il vero Ti posso dire un po' A tutto ciò A tutto ciò A tutto ciò C'è scato C'è scato C'è scato Ma che c'è scato Ma che si scato C'è scato Non ti preoccupare Tu sai cosa ti ho detto io Puppe Puppe ti ammazzere Ma io Una volta Ma dove vuoi essere Una volta Una volta Mi piace Vito Dove giochiamo Fai da fare E' commissario E' arrivata anche la signora Mazzieri Anche qui Ciao di La signora può entrare Come è bene Come è bene Che fai inanza tutto qua Ah no Ma come A mantenere La promessa è promessa La promessa è promessa Io Mi sono scattato La promessa è promessa Io mi sono scattato Ma non è bello Faccio il che mi alzì Tu ci scappi Non ti preoccupare E con me non va a essere Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare C'è un grande La roccio Mi sento E pico Non ti preoccupare Dico C'è un periodo Non ti preoccupare Ciao Buongiorno Brunetti C'è un deco C'è un deco Questa è un ordine Questa è un periodo Tu ti aspetta Ma io posso aspettare in manca Ma è un giorno Non ci sarà Non ci sarà C'è un peo Ah, bella specchio. Da fonda la drissi, ne? Divaggia la drissi a guarda la corsa, vedi? Tira la sgarra. Non fa. E guarda la mia sgarra. Non la va. E fa male. Vuoi fare male? No. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Tanto. Uoi, papi è vero. Io devo. Tappò. Alla soltare. Sembra fatta di ganchi. Come si dice. Come ghiè, tutto buon tu? Tabò. Greta. Si? Ti ho. Ti c'è quella. Questa è un poche? Ma questo io ne devo ... Ma si tu non serve. Non si ma questa è un poche. Ma non si sa. Ti ho. Le si? Ma ora? Non. Ma non si è? Ti ho. Non si tanto. Ma è già, non si è che questo ma. Ma non. Ma non. Ma non. Ma non. Ma non? Ma non è. Ma non? questa c'è Rita, c'è un po' Anna, dove passano le manier di me da? Manuè, sono venuto per una cosa non bella vedo che aveva venuto il mio papà e Diano ma quale è un problema? non, dovevo dire, dovevo mettere in guardia aveva il mio papà e Diano che da noi diciamo ho fatto aspetti, vuoi far parlare allora il problema è che io non ho fatto che venire là io mi chiedo a dire a mamma che deve fare passare le lunghe quattro ore io non ho fatto ma la mia piccata saremmo se io fare una piccina non mi chiedo e non mi chiedo non so se mi chiede, ma non so se mi chiede ma perchè mi chiede la piccina in ero bar io non so come la sopna bra, penso che si sta tutto si, ma ci vuoi non si sape di andare a fare un po' di u semi ma tu sei sbagliato a parlare ma tu sei sbagliato a parlare ma tu non si sape di andare a fare un po' di u semi sono malini, ma tu aspetta a disporare e tu mi chiede, ma tu si sape di andare a fare un po' è un po' come non dico parco e non un po' caraga no 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 parla subito parla passato per un sacco lato del sangue c'è ancora un grasecchiello mangiare se capire anna d'acqua si stai tu l'altra parco la colla anche tenendo un web che d'addi che mi senti gioco sapa mamma, no, non sape no la collega del che è detta dalla signora Jill che è proprio preziosa costa amore è messo in mamma, si è avverto mamma, per piacere non sa niente ancora mi sa di qualche cosa la cosa ma non bello, c'è papa, non sape no quindi tu mi raccomando sempre la bucce mamma, mi piace mamma, annati e di questo, ti è che ho lavoro mamma, mi sto tutto agitato non ti è preoccupato, non ti è più niente non ti è più niente non ti è preoccupato mi piace a me, non sape no io mi sono stancato stancato siamo andati da la candida siamo andati a te siamo stancati si, tu mi hai fatto la mia cassa hai visto appropo, tu hai come cane come cane, non ho come cane, chi? come cane, non ho Cosa è andato? Sbagliando il peggio. Ora voi vede. Ci sono avuto il giallo. Scusate, signor? Scusate, signor, signor? Cosa è il problema? Cosa è andato? Non vede. Non vede. Che? Cosa è la prima? È la prima. un'altra lunga come la zon che ne chiede? non ti chiede vi rispetti che si ne fanno i tuoi ma non ti ragione non ti chiede 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 attravento come scape ti richiugne non ci chiede Che non le so? C'è tutto qui? Là abbiamo chiamato a perdere così... Ed è io devo prendere lì?" Lì abbiamo chiamato, così è che siopso. Oh, guarda lì! Guarda lì, guarda lì. Lei è per lo cuore allora?" Guarda lì? Guarda, guarda. Guarda lì, guarda. Guarda, guarda lì. Guarda lì, guarda lì, guarda lì. Guarda lì la tue! Quanto ce gli ieri uccanto? Cosa prendono la ragazza? Vuoi chiedere l'amnistra? Non l'all'. C'è un'altra cosa! Non si muovere. Mi vuole un nervo su per l' childe. Che ci sono male ti metti alla samba? Che ci sono male te li scapponi? Chema, il tuo problema! Non sei parlare per usare la mia! Ok, non mi vuole! Ok, c'è forse una macchina! Ok siamo andati Covi raudit Deve come to Bahn Non mi fai Stele Sani la su la su la 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 come suoi da me stasera stasera come si sbagliati non 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 si 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 non si i i